C'era una volta un bambino chiamava la natura e gli animali. Il suo nome era Charles Darwin. Era nato in un freddo giorno di febbraio nella cittadina inglese di Shesbury. Era cresciuto in una famiglia benestante e una volta diventato grande, il padre decise di iscriverlo all'Università di Medicina. Charles non era felice di frequentare questa scuola e quindi scesse di andare all'Università di Scienze Naturali per inseguire i suoi sogni. Un giorno l'esploratore Robert Fitzroy, vedendo la sua bravura, gli propose di fare un viaggio con lui. Il padre, non contento di questa opportunità, disse Non mi sembra giusto abbandonare gli studi proprio in questo momento, ma se vuoi partire io ti do il mio permesso. Dunque, Charles e Robert partirono per il loro lungo viaggio con due obiettivi, divertirsi e studiare gli animali. Il primo luogo che visitarono fu il Brasile e rimasero entrambi molto impressionati dalle strane somiglianze e diversità tra le varie forme di vita. Come suo solito, Darwin annotava tutto ciò che osservava su un diario di bordo e raccoglieva dei materiali come per esempio i fossili. Visitò addirittura l'Argentina, dove osservò cuccoadrilli, ghepardi, tartarughe e scimmie. Mentre in Cile osservò fenicotteri, lama e cincillà. Ma il viaggio più importante fu sulle isole Galapagos, dove notò che gli animali erano molto diversi. E in particolare i fringuelli avevano becchi differenti a seconda dell'isola su cui si trovavano. Al ritorno dal suo viaggio scrisse un libro, l'origine della specie, dove raccolse tutte le sue scoperte e formulò la sua teoria più importante, la selezione naturale. A quel tempo ritennero falsa la teoria di Darwin e criticarono l'idea secondo cui gli esseri umani e le scimmie avevano un antenato in comune. Charles Darwin dedicò tutta la sua vita allo studio della natura e all'osservazione degli animali, dimostrando che l'amore per la conoscenza e la curiosità possono portare a grandi scoperte. Il suo libro cambiò la storia della scienza e ancora oggi è considerato uno dei più importanti. Grazie a tutti.